È vero quello che era già stato detto, nel senso che era già uscito sulla stampa che il Presidente della Corea del Sud avrebbe portato, diciamo, come posso dire, forse un interesse, l'interesse del Presidente della Lida della Corea del Nord di avere il Papa a Pyongyang e il Papa ha dato la sua disponibilità. Adesso bisognerà aspettare un attimo che si formalizzi di più, è stato soltanto un primo approccio, ma che va nel senso di quanto già era stato detto, che il Presidente avrebbe manifestato al Papa verbalmente questo interesse. Evidentemente, questo però è un mio pensiero, un viaggio di questo genere ha bisogno di una seria preparazione, e di una seria considerazione.